In ballo ci sono oltre 4.000 posti di lavoro, quasi 400 solo su Siena. Logico quindi che la mossa del Consiglio dei Ministri in merito all'accordo tra Whirlpool e Arzelic ai fini di proteggere l'occupazione sia vista dai sindacati con interesse. Bisogna ancora capire che cosa significa quello che ora noi ci attendiamo e che il Governo provveda a convocarci per spiegarci quali sono le sue intenzioni. Il DPCM proposto dal Ministro Urso mette in campo il Golden Power uno strumento eccezionale per i settori strategici che in questo caso punta a salvaguardare anche la produzione e il patrimonio tecnologico. Mi sembra di aver capito dalla nota stampa che il Governo voglia considerare l'operazione, il settore elettrodomestici un settore strategico e quindi porre delle garanzie soprattutto dal punto di vista industriale e occupazionale che poi è quello che a noi premia di più in questa operazione che vediamo possa presentare dei rischi per l'occupazione quando avvengono operazioni così importanti tra due gruppi industriali così importanti a livello mondiale. L'annuncio arriva in un momento di difficoltà l'ennesimo per lo stabilimento di Siena, fermo fino al 4 maggio per il calo degli ordinativi. A livello locale non stiamo vivendo una situazione brillantissima tant'è vero che i lavoratori proprio in questa settimana sono in cassa integrazione ci auguriamo che questa operazione possa riportare una nuova linfa e con questa Golden Power del Governo vorremmo capire se sarà possibile avere delle garanzie per tutti gli oltre 4.000 lavoratori italiani.